Sì, siamo consapevoli che siamo una buona squadra, che possiamo giocarcela tranquillamente con tutte e l'abbiamo dimostrato nelle ultime partite, anche se un po' di ramarico c'è perché potevamo fare qualche punto in più, magari con una vittoria almeno, però stiamo dimostrando di crescere perché comunque siamo una squadra molto giovane, però siamo consapevoli della squadra che siamo e di quello che possiamo fare in futuro, che comunque come inizio stagione abbiamo incontrato squadre più forti che puntano a vincere il campionato, e a parte Pordenone con tutte le altre ci siamo giocate alla pari, anzi forse meritavano qualcosa in più. Queste prime 7-8 giornali, per voi 7 di campionato, che idea ti sei fatto complessivamente di questo girone? Che è un girone tosto, soprattutto come inizio, perché abbiamo incontrato le squadre più forti al campionato, Pordenone, Ferralpi Salò, Padova adesso, Vicenza che comunque puntano a salire e siamo comportati bene. Si sapeva già fin dall'inizio che sarà un campionato tosto, però noi abbiamo i mezzi per poter fare un buon campionato. Ovviamente ci vorrebbe qualche vittoria per avere più entusiasmo e poter affrontare con molta più tranquillità le prossime partite. Grazie. 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 Grazie.